L'orientamento sessuale. Nel video pillola 2, e vi copio il link nella descrizione qualora lo voleste rivedere o vedere per la prima volta, ho cercato di descrivere che cosa si intende per identità di genere. Oggi prendiamo la pillola numero 3 degli aspetti della sessualità, ovvero l'orientamento sessuale. Cosa si intende per orientamento sessuale? È ciò che dirige ognuno di noi verso l'appagamento sessuale e il legame romantico. È l'attrazione erotica e sessuale, affettiva e romantica. Esprime da chi ci sentiamo attratti e viene suddiviso generalmente in tre macro aree, per così dire. L'eterosessualità, quando si attratti dal sesso opposto, ad esempio io sono donna e sono attratta sia sentimentalmente che fisicamente da un uomo. L'omosessualità, quando si attratti da persone del nostro sesso sesso, ad esempio io sono donna e sono attratta dalle donne. E la bisessualità, quando si attratte da entrambi i generi, ovvero io sono donna e sono attratta sia dalle donne che dagli uomini. Questo però non coincide sempre con la vita concreta e reale, perché anche in questo caso esistono sempre delle situazioni intermedie. Il comportamento sessuale, infatti, non è necessariamente indice di quello che una persona percepisce come il proprio orientamento sessuale. Anche in questo caso, quindi, come per l'espressione di genere, l'orientamento sessuale può avere più dimensioni, perché si prendono in considerazione non solo gli aspetti legati al comportamento o all'attrazione fisica, ma anche le fantasie che possono essere più o meno consapevoli. Un punto fondamentale va detto, l'orientamento sessuale non è una scelta. Io non scelgo di essere eterosessuale, bisessuale oppure omosessuale. Io non scelgo da chi sono attratta e quindi non posso, non devo essere mortificata o cercare di essere in qualche senso modificata per questa ragione, dall'esterno intendo. E per esterno intendo la società di appartenenza, dagli amici o dalla famiglia. Vi aspetto con la pillola 4, con l'ultimo aspetto della sessualità. Ciao!